Buonasera a tutti. Ospedale unico di Cuneo al Santa Croce si può. Un ospedale aperto in una città aperta. Diamo il via adesso, in questo momento, a un convegno dibattito a più voci su questo tema. Il secondo convegno di questo genere che facciamo in rete online, il primo era stato organizzato da chi in qualche modo sosteneva la scelta dell'ospedale da collocare a confreria. Questa sera a organizzare Cuneo per i beni comuni, che è un'associazione ma anche una lista che ha i suoi rappresentanti in consiglio comunale e che è una posizione molto diversa, naturalmente. Non una posizione politica ma tecnicamente motivata e lo vedremo questa sera come motivano questa scelta qua, con tanto di progetti, di idee, di ragionamenti e intervengono una serie di persone. Io vi dico tutti chi interviene questa sera, poi di volta in volta li richiameremo. Innanzitutto Ugo Sturlese, che è consigliere comunale di Cuneo per i beni comuni. Poi Angelo Bodino, all'architetto, che presenterà, illustrerà l'idea di progetto dell'ospedale in città, là dove si trova oggi sostanzialmente. Poi segue Ernesto Principe, che è della segreteria regionale della NAO, l'associazione sindacale dei medici ospedalieri. dopo di lui Luciana Toselli, consigliera comunale di Cuneo per i beni comuni. Quindi Armanda Bellazzini, presidentessa di Piazza in Piazza, l'associazione cuneese. Domenico Sanino, che è presidente di Pronatura. Bruno Piacenza, presidente di Lega Ambiente Cuneo. E in conclusione anche questa volta interverrà il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, che anche nel convegno precedente ha significato la continuità, l'interesse per il tema della città, ha significato magari anche che una decisione finale non è ancora stata presa, anche se nei giorni scorsi la commissione comunale si è pronunciata per la scelta di confreria. Ma le decisioni finali devono ancora essere prese. Dovrà essere il consiglio comunale a decidere, infine, dove collocare davvero questo ospedale. Io mi fermo qui, lascio la parola adesso al primo intervento di Ugo Sturlese. Prego Ugo. Naturalmente invito tutti a fare degli interventi concisi, anche se il convegno in sé durerà qualcosa come un'ora e mezza o giù di lì, immagino, per dare spazio agli interventi. Prego Ugo. Abbiamo voluto dar vita a questa iniziativa per allargare il dibattito su quello che è un tema fondamentale per il futuro della città e che solo in queste ultime settimane ha avuto un rilievo anche da parte dei cittadini con lettere ai giornali e così via. E quindi questo, diciamo subito che si apre questa sera un confronto di idee con la popolazione, non solo di Cuneo ma dell'intera provincia, perché come sapete l'ospedale di Cuneo è al servizio dell'intera provincia. Un confronto di idee che non vuole essere una guerra di religione fra i sostenitori di una sede o i sostenitori di un'altra sede, ma appunto un confronto costruttivo, propositivo sulle ipotesi di soluzione. Io devo ringraziare intanto a nome dei beni comuni tutti coloro che questa sera interverranno e che hanno partecipato molto numerosi alla costruzione di questa iniziativa. Devo dire in particolare all'architetto Bodino che ci ha messo molto impegno, molto tempo per preparare una proposta concreta, anche realizzabile. questo convegno viene a distanza di sei mesi da un precedente convegno che avevamo fatto il 2 luglio e allora si diceva post-covid, purtroppo invece siamo andati incontro ad una seconda ondata pandemia che ha colpito pesantemente, ancora più pesantemente la provincia di Cuneo, siamo a 30.000 positivi dall'inizio, ma 938 morti, la stessa nostra città a 3.400 positivi dall'inizio della pandemia, 141 morti. Insomma ricordo questi dati, la forte probabilità anche purtroppo data da alcuni di una terza ondata, come pure anche del pericolo di mutazioni del virus già in atto di altre possibili epidemie. Ricordiamo che ne abbiamo avute ben cinque dal 2020, dalla Salsa, la Viaria, la MERS, l'Ebola, il Covid. Posso sottolineare l'esigenza e l'urgenza di raggiungere risultati nel riorientamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto nel potenziamento di quelle che sono le funzioni, gli organici e la formazione del personale, a partire da quello dei servizi di medicina territoriale, di igiene e sanità pubblica, di epidemiologia, che hanno presentato degli aspetti di difficoltà, soprattutto nella prima fase, ma anche poi nel problema dei tracciamenti con degli organici che si sono trovati sottodotati in possibilità di svolgere pienamente il loro compito. A Cuneo fanno parte di questa esigenza anche il discorso del rinnovamento delle strutture ospedaliere e in buona misura la questione dell'ospedale unico, che è venuta, diciamo, ancor più alla ribalta in questi ultimi giorni. Sia pure con un aspetto di minor drammaticità rispetto ad altre situazioni, perché come sappiamo il nostro ospedale funziona molto bene e ha affrontato anche questa seconda fase, anzi questa seconda fase, ancora meglio della prima, con una serie di cambiamenti continui e quindi per far fronte a quello che era una ondata sempre più alta. Ma questo sottolinea la necessità e la importanza del fattore tempo nella realizzazione dell'ospedale, perché noi potremmo dover affrontare altre situazioni critiche in una situazione e dovremmo affrontarle in una situazione meno precaria, ecco, di quella in cui ci siamo trovati ad operare. Ma torniamo all'ospedale unico. Il 28 dicembre sono stati consegnati i lavori del gruppo di architetti incaricati di redigere lo studio di prefattibilità. Subito dopo, ecco, i giornali e la maggioranza degli esponenti politici sono affrettati a dare un giudizio, un giudizio, come se la decisione fosse stata assunta con la scelta a favore della scelta del Carle, cioè a confreria. Ma questo non è affatto vero. Come è stato ribadito più volte, sarà nel Consiglio Comunale, per quanto riguarda la sede e l'Assemblea dei Comuni dell'SL, per quanto riguarda la tutela delle funzioni di hub dell'ospedale di Cuneo e per quanto riguarda l'accessibilità, ovviamente, a dare il loro giudizio. E questo è quanto avverrà per il Comune di Cuneo nella seduta prossima del 25-26 gennaio sulla balla di un ordine del giorno promosso dalla Presidenza della Commissione Temporanea Speciale a sostegno della scelta dell'area dell'ospedale Carle. Scelta che noi abbiamo contestato per motivi di merito e di mancato rispetto di, noi diciamo, elementari esigenze di coinvolgimento della cittadinanza attiva, dal momento che la documentazione fornita dai consulenti è stata portata a conoscenza solo dei gruppi consigliari, con raccomandazione anche di riservatezza, e l'opinione pubblica ne ha avuto conoscenza solo da notizie riportate sui giornali in maniera semplificata e, diciamo, anche chiaramente condizionata da una tabella di valutazione fornita dai consulenti, i famosi semafori. La proposta è stata avanzata per il Consiglio Comunale da tre membri della maggioranza e, inopinatamente, devo dire, anche da una rappresentante dell'opposizione, con una decisione peraltro del tutto personale, ed è stata presentata come un giudizio inappellabile e definitivo. A mio giudizio questa modalità di procedere è profondamente sbagliata ed è anche pericolosa. Noi dobbiamo avere sempre presente che la scienza e la tecnica devono fornire gli elementi perché la politica possa decidere, tenendo conto di tutti gli elementi del problema. Dobbiamo sapere, come affermano anche Barche e Giovannini, in un recente testo quel mondo diverso, si intitola, serve a fornire gli elementi di conoscenza, gli strumenti dell'azione, ma non i fini, le ragioni profonde e complesse di una decisione che spettano appunto alla politica supportata però dall'opinione dei cittadini, cittadini singoli organizzati associazioni. Come si è arrivati a questa situazione? Beh, questo riassumo brevemente. Nel novembre 2018 il Consiglio Comunale aveva approvato le conclusioni della commissione speciale che era stata istituita per decidere sulla scelta dell'ospedale unico. Il Consiglio Comunale aveva approvato la scelta dell'ospedale unico, ma ad alcune condizioni, a condizioni che le due opzioni del Santa Croce o del Carle venissero analizzate da parte della Regione o da esperti nominati dal Comune, mediante appunto uno studio di prefattibilità che tenesse conto da una parte dei fattori di rispondenza strutturale e funzionale, ma anche dei fattori di contesto urbanistici e sociali, che prevedesse anche la partecipazione dei cittadini e degli operatori nel corso stesso dello studio. I cittadini non solo di Cuneo, perché ripeto questa è una questione che interessa i cittadini dell'intera provincia. Successivamente, a inizio 2020, sono stati incaricati a eseguire lo studio di prefattibilità in maniera un po' irrituale, perché non è stato il Comune o la Regione, ma la Fondazione Amici dell'ospedale, costituitasi nel frattempo, e ha incaricato alcuni architetti di valore, peraltro uno dei quali però aveva già compiuto degli studi su questa ipotesi progettuali, studi che erano già orientati sulla scelta del carri. Nel frattempo, come si diceva, veniva di nuovo, si esprimeva, esplodeva la pandemia da coronavirus e quindi questo poneva ancora con maggiore evidenza la tematica dell'adeguamento delle strutture e questo, diciamo, enfatizza ancor più la questione del fattore tempo nella realizzazione della struttura, come dicevamo già nel convegno precedente. Ci si deve chiedere, in sostanza, se noi possiamo permetterci di aspettare dieci anni per avere il nuovo ospedale, senza un riadeguamento delle strutture attuali ospedaliere, anzi con pericolo di decadimento delle strutture attuali, e quindici anni perché si possa dar vita a quella che è stata proposta come la cittadella della salute, peraltro proposta che abbiamo anche apprezzato, ma di difficile realizzazione. Da questa riflessione è partita la nostra analisi e la maturazione di una chiara convinzione da parte nostra a favore del rinnovamento, ricostruzione in tempi rapidi, sei anni, in fasi progressive per moduli blocco per blocco della sede attuale del Santa Croce. Abbiamo preso in esame due campi di valutazione. Uno, i volumi e le superfici territoriali necessarie per un ospedale di 609 posti letto, cioè si può fare l'ospedale nell'attuale territorio dove insiste l'attuale Santa Croce, e poi i suoi rapporti con il contesto della città che sono fondamentali. Il secondo aspetto sono le funzioni e i percorsi che devono essere consentiti dalla nuova costruzione. Per quanto riguarda il contesto territoriale, poi la struttura dell'ospedale, rapporti di contesto col territorio, noi sosteniamo, a differenza della valutazione dei consulenti, che peraltro non hanno escluso in assoluto la nostra opzione, che il nuovo ospedale unico può essere realizzato a Santa Croce secondo una tipologia orizzontale, e cioè con un'altezza massima di sei piani più attico, corrispondente all'altezza degli attuali edifici, come sarà spiegato dall'architetto Bodino nel successivo intervento. Perché dispone, a sede del Santa Croce, di superfici e volumi edificabili adeguati, in quanto l'impronta a terra della nuova costruzione è di 24.000 metri quadrati su una superficie territoriale attualmente disponibile di quasi 40.000 metri quadrati. È una superficie, e si può realizzare una superficie utile, lorda di 92.000 metri quadrati, compatibile con le esigenze funzionali di un ospedale moderno. Abbiamo detto che è possibile anche recuperare parte degli edifici attuali, compreso il nuovo blocco operatorio che potrebbe essere adibito a dei surgery, e il grande edificio centrale. Infine occorre considerare nella valutazione che la superficie territoriale effettiva è molto più ampia, includendo il Movicentro, il Palazzo dell'Imse e perché no anche il Parco Monviso che è vicino all'ospedale. Al contrario, il gruppo dei consulenti ha espresso un'opzione favorevole in sostanza alla localizzazione del Carle, rappresentata nell'immagine dei 19 semafori rossi o verdi a seconda della rispondenza a criteri che dovrebbero essere oggettivi, ma che spesso sono solo optativi. Ed il risultato ampiamente pubblicitato è stato quello rugbystico di 18-1 a favore del Carle. E qui c'è stata sicuramente un po' di malizia perché i semafori indubbiamente colpiscono quelli riportati, ma anche quelli che non sono stati esaminati. E il risultato della votazione è francamente discutibile. Anche poi si è stato spiegato che i semafori di per sé non contano se a Monte c'è la volontà politica di mantenere l'ospedale in città. Ma è proprio questo aspetto fondamentale che viene dimenticato. Non viene considerata la necessità di mantenere il legame dell'ospedale con la città. Come è nel nostro titolo, un ospedale aperto in una città aperta. Valorizzando molteplici rapporti dell'ospedale con l'abitare delle persone, con le loro attività lavorative, sia interne che esterne all'ospedale. Anzi, l'ospedale diventa estraneo alla città, mentre può e deve essere armonicamente inserito nel contesto edificato esistente, senza interrompere i flussi di comunicazione fra le persone. Io invito tutti ad andare a vedere su Google la presentazione dell'architetto Boeri del progetto, quindi del Policlinico di Milano. E infatti, pur non escludendo la possibilità di ricostruire l'ospedale nell'attuale sede, della sede centrale del Santa Croce viene esaminata solo l'ipotesi verticale, proiettata in altezza, a nove piani. E' quindi chiaramente inaccettabile per l'impatto, in questo caso negativo, che avrebbe sulla città. Mentre viene scartata apertamente l'ipotesi di uno sviluppo orizzontale del tutto simile all'attuale, sovrapponibile all'attuale, con altezza degli edifici. E soprattutto non vengono considerati alcuni aspetti fondamentali di contesto. Non viene considerato che il portale comporta un maggior consumo di suolo. Si parla di un impegno di 140.000 metri quadri, dei quali 35.000 solo per il parcheggio raso, più altri 35.000 in scavo. E inoltre questo impianto determinerebbe un impatto estremamente invasivo sul paesaggio in un contesto di bassi edifici di edilizia frazionale. E per di più all'interno di un parco fluviale. Ma i problemi legati ai vincoli paesaggistici, culturali, il portone viale e l'ingresso del vecchio sanatorio infatti sono tutelati, e quelli anche idrogeologici, legati alla presenza per esempio di barriere e canali che attraversano l'area, ebbene questi problemi possono creare grosse difficoltà nei tempi di rilascio dei permessi. Ma esaminiamo ancora alcuni semafori importanti e la loro discutibile interpretazione. Allora, certamente abbiamo visto l'area del Carle è più grande e si presta ad ulteriori espansioni, ma questa prospettiva, oltre un limite accettabile, rappresenta un problema più che una risorsa in termini di rispetto dell'ambiente, di mancato assorbimento di energetica carbonica, mentre la riconversione del Santa Croce presenta una limitatissima occupazione di suolo. Come abbiamo visto, l'inserimento nel paesaggio risulta molto più impattante nella sede di Confradia e l'accessibilità è di gran lunga inferiore a quella del Santa Croce, richiedendo un forte incremento della mobilità, prevalentemente con mezzi privati, per raggiungere una sede decentrata e forti investimenti per i parcheggi, come saranno sviluppati dagli interventi poi che seguiranno. I tempi da valutare inoltre l'importanza della presenza di una ferrovia, c'è stata una lettera proprio alla guida dell'altra settimana, una bellissima lettera, che metteva in evidenza come sia fondamentale per un ospedale essere vicino alla ferrovia. Infine il valore dell'area dismessa, qui viene acquisito nei semafori come un valore, ma è un valore del tutto aleatorio e discutibile, tant'è che appunto il gruppo centro per Cuneo, anzi ha proposto di utilizzarlo per costruire la cittadella della salute. La seconda questione riguarda la funzione e i percorsi. Qui noi ci siamo ispirati al modello del nuovo ospedale di Renzo Piano e Veronesi, ponendo al centro le esigenze del paziente e l'umanizzazione dell'assistenza. Il benessere del paziente, come si dice adesso, secondo le indicazioni di uno studioso anglosassone, Ronald Mesh, che già da anni parla con il suo universal design di ambienti che appunto tutelino il benessere del paziente. abbiamo immaginato un ospedale che fosse centrato sui livelli di assistenza per gravità e per carico di prestazioni e fosse indirizzato al concetto del superamento delle divisioni a vantaggio della integrazione e della interdisciplinarietà, come già avviene nelle attuali strutture dipartimentali. A livello di macrostruttura, poi, come si vede bene dalle immagini, abbiamo tenuto conto della razionalità dei percorsi, prevedendo, come vedete, una successione di blocchi che praticamente rifanno un po' quella che è la struttura attuale del nostro ospedale. una successione di blocchi che, partendo dalla piastra dell'emergenza, completamente rinnovata, consenta di accedere facilmente all'area delle diagnostiche, che sono fondamentali per l'emergenza, all'area dell'interventistica, all'area del blocco operatorio, che questo sì dovrebbe essere avvicinato all'area dell'emergenza, e poi in successione alle degenze ad alta intensità di cura, a bassa intensità di cura, e infine all'area dei ospiti e dei servizi ambulatoriali, secondo quello che viene definito un approccio funzionale strutturale. È possibile, a nostro giudizio, anche prevedere un blocco materno infantile dedicato in uno dei nuovi edifici, seguendo appunto l'esempio del Policlinico di Milano, che è l'esempio di un ospedale costruito in centro città. In definitiva, partendo da queste esigenze, e in particolare dall'osservanza di questi standard tecnici, diciamo che è possibile realizzare nell'area del Santa Croce l'ospedale unico, l'ospedale unico si può fare, ed anzi sarebbe la scelta preferibile per tutte le motivazioni che abbiamo sviluppato, e che sintetizzeremo alla fine di questo convegno con una nostra tabella dei semafori. Anche noi abbiamo fatto i semafori, ma ovviamente i semafori risultano di colore verde per quella che è la nostra opzione. E questo è un po' quello che abbiamo elaborato e che adesso verrà espresso, spiegato molto bene dall'architetto Bodino, valendosi di immagini che crediamo molto significative e che aiuteranno soprattutto le persone che vedono e ascoltano a capire qual è la sostanza delle questioni che stiamo discutendo. Io quindi finirei qui e lascerei la parola. Grazie a Ugo Sturlese per questa presentazione che ha già inquadrato molto bene qual è la posizione e anche il percorso che è stato fatto per arrivare a queste osservazioni. Io qui siamo nella sede della Guida, io ne approfitto anche per dire che di tutto gli interventi di questa sera troverete, oltre alla registrazione sul canale YouTube, sul canale www.laguida.it, troverete ampia sintesi poi sul giornale in edicola giovedì. D'accordo? Intanto allora lascio la parola all'architetto Bodino che ci illustrerà meglio l'aspetto progettuale. Prego architetto. Grazie a tutti, in modo particolare alla direzione, al giornale, alla guida che ci permette di esplicitare e proporre anche a una nostra suggestione, quindi non è un progetto, non è un'idea progettuale. Cioè la mia partecipazione è, diciamo, volontariato per un fatto di appartenenza, perché l'ospedale, io sono nato, vissuto, ho fatto cantiere per dieci anni, perché caso vuole ero collaboratore di chi ha creato l'ospedale, che è l'ingegnere Salietto, e quindi lo conosco, l'ho vissuto e lo devo difendere. Ma perché lo devo difendere? Perché io abitavo in centro vecchio, vicino all'ex ospedale Santa Croce che è ancora lì, dopo 50-60 anni. Allora mi sembra un dovere sociale, morale, logico, mettere tutte le energie al servizio della nostra città innanzitutto, dove l'ospedale è stato il patrimonio della nostra città, che poi è andato all'USL. E questo è un aspetto da considerare, quindi dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno preseduto, e quindi ovviamente, quelli che sono arrivati anche dopo, tutto armoglieranno e così via, che con questo ospedale sono riusciti a far sì che sia diventato un ospedale di eccellenza. Ma è diventato un ospedale di eccellenza per gli eccellenti medici che ci sono lì. Quando vai all'ospedale Santa Croce, esci fuori, ci sono solo complimenti, e quindi come tale abbiamo il dovere di difendere la professionalità di quelli che lavorano lì. Ma quanti sono quelli che lavorano lì? Sono duemila dipendenti. Allora, questi duemila dipendenti creano già loro una città, creano un modo di vivere, devono essere tutelati e quindi emergono delle considerazioni da fare. Non mi permetto, ci mancherebbe, perché io rispetto a dei colossi che hanno fatto questo a prefattibilità, sono l'ultima ruota del carro, insomma. Però la testa ce l'ho anche per ragionare. Allora, è evidente che se metti una struttura, la stessa identica struttura, che il mio amico Sturlese dice che è un po' il gioco dell'ego, e la metti da una parte e dall'altra, è incompatibile con l'architettura. L'architettura non è un disegno. L'architettura è l'espressione della gente, come diceva giustamente il socio di Piano, Rogers. E quindi, chiaramente, quando uno, un caso tipico, ognuno di noi fa una casa, giusto? La fanno tutti. A chi vai a chiedere? Gliela imponi? Gliela imponi se sei un archistar. Altrimenti vai a chiedere, signora, signore, così via, quanti bambini ne avete, o quanti camera vi ho letto, partecipate. E quindi io ringrazio, sin d'ora, l'esperienza è stata notevole, che ho avuto con questa partecipazione piccola, dal basso, che mi hanno offerto i beni comuni, perché c'è stata una partecipazione che io non avrei mai potuto tirare fuori qualche idea, se non ero educato all'idea. E l'idea educata è quella di capire che cosa si sta a fare in un ospedale e come può essere sviluppato. Fatta questa considerazione cominciamo a togliere qualche perplessità. E cioè a Cuneo non si può fare l'ospedale perché ci vuolono 70.000 metri quadrati di parcheggi. Ma quando mai? Le norme di attuazione non dicono quello. In più noi bisogna dire che è una preesistenza e noi proponiamo ampiamente. La preesistenza sono 75.000 metri quadrati, quindi dovremmo ricevere, per arrivare a 92.000, 17.000 metri quadrati. Quindi dobbiamo dire che i parcheggi esistenti sono più che sufficienti perché sono vissuti con l'espansione della città, quindi con il nuovo centro, con tutto. Sono a Iosa e sono ubicati, come dicono le norme di attuazione, a 300 metri di distanza. Sono compatibili. Quindi non sono da costruire a Cuneo. A costruire i parcheggi è il di più. E cioè 17.000 metri quadrati di sul rispetto all'esistente 75.000. Cominciamo a mettere questo dato. La seconda, che bisogna dire? Non voglio andare nel merito tecnico, ma lo capiscono tutti. Una città si evolva e quindi negli anni 60, quando è nato l'ospedale, non c'erano mica tutte queste strutture, di tipo alberghiero, di tipo ricettivo, di tipo commerciale, sono venute dopo. Quindi la città si espansa rispetto ad una entità, non viceversa. Allora il discorso di Flanda non è un fatto privatistico, ma un fatto pubblico. E cioè, insomma, l'ospedale ha generato produzione sociale, produzione attività e cose di questo genere qui, è stato un grande supporto e continuerà a essere, speriamo, e continua a essere un supporto economico, funzionale. Allora il problema di fondo è, ma non c'è, è piccolo l'ospedale, ha solo 33.000 metri, non ha futuro. Non ha futuro. Ma come non ha futuro? Ma la superficie territoriale territoriale c'è già, perché una superficie territoriale è comprensiva di opere d'urbaniazione che bisogna fare, là bisogna farle, qui sono fatte, cioè devi fare strade, devi fare parcheggi, devi fare la stazione autobus, devi fare la stazione foroviaria, insomma, devi articolare una nuova città dove hai i cento e plus mila chilometri. Questo qui è da dire con grossa evidenza. La terza è che non sta in piedi dire che non si può fare a Cuneo perché è in contrasto con le norme del piano regolatore. Certo che è in contrasto con il nuovo piano regolatore. Se fai dieci piani, nove piani, come la sola parte verticale, è in contrasto. Ma se gli fai gli stessi piani e lo modelli con i sei piani, più attico, così come prevede le norme, la zona, lo inserisci nel suo abitante, nella sua zona, è un ampliamento tucur, che significa velocità di progettazione, di approvazione in un contesto che non ha bisogno, addirittura si potrebbe, si dicono sì e così via, lo potrebbe fare anche l'ufficio, tanto per dirne uno col supporto. Quindi la prima considerazione è velocità di approvazione e noi dobbiamo far sì. E questo non lo so, è una suggestione, è un sogno, ma può anche diventare realtà. Secondo noi si fa in sei anni questo intervento e adesso vediamo, ma ci piacerebbe andare in confronto. E cioè se quelli che dicono, ma tu sei fuori di testa, allora confrontiamoci. Allora come si sviluppa la nostra idea? La nostra idea si sviluppa in questo modo. Partiamo dal presupposto che vogliamo proprio per un senso di appartenenza, ci sembra uno spreco bestiale, insomma, buttare giù uno spazio, uno spazio che è tutt'altro che sgradevole, che è il fabbricato centrale, quello delle chirurgie, è il fabbricato E, che è con colore fucsia, il quale poco poco, siccome ha tre piani sotterranei e due piani sopra, ha una superficie, compreso il primo interrato utile lorda, di 7500 metri quadrati. Allora, il discorso di fondo è minimo minimo, senza i macchinari, vale 15 milioni. Quindi noi partiamo dal presupposto e quindi evidentemente incidiamo anche sul fattore economico. E quindi noi partiamo dal presupposto di mantenere e fare diventare l'ingresso principale del futuro ospedale come noi sogniamo, no? E cioè dalla parte di via Bassignano. È evidente che siamo anche più che d'accordo con l'idea che ha presentato in modo molto, come posso dire, costruttivo, la lista centro per cuneo. È un'idea, la differenza è sostanziale. Qui debbono dire che per dieci anni, non si può fare niente in questo perché devono convivere. Quindi devi prima fare la costruzione a confraria. Quando l'hai finita sposti e quando hai spostato inizi a lavorare. Ma se dove prendi i soldi? Quando li prendi? Ho l'impressione, forse il sindaco che è stato molto prudente, nel senso che Pondera ha detto una cosa molto valida. E come? E cioè noi, l'ex sospedale Santa Croce da 60 anni che è lì, eppure si pensava di fare chissà cosa. Per fortuna i fondi Piso. Quindi il problema di fondo è, io non avrò il piacere di vedere come sarà l'idea di cuneo centro nella rivalutazione di questo. Mi dispiace, però è meglio così. Però spero che facciano tante RSA a livello, come si deve, come dirà la Tosedi dopo. Fatto questa prima impostazione, velocissimo cerco di far capire questa proposta. Quindi noi partiamo dal presupposto, fra le altre cose fra tutti, mi sono dimenticato di ringraziare chi ha prodotto questo qui, che è un artista, è un mio amico, è un collega e l'architetto Nasetta, Michele, il quale, solo perché io sono più vecchio che sono qui ad esporre, ma diciamo che questa suggestione è stata suggestionata da tutti e due e da altri. Allora, ritorniamo su, diciamo, come l'articolazione. Qui andiamo nelle fasi cantieristiche. Quindi prima diciamo come sono costituiti. Ecco, ritorniamo sul... Quindi in definitiva noi manteniamo la struttura esistente, no? E poi, ecco, vediamo, questo qui è l'attuale situazione, giusto? Adesso cosa succede? Prima di andare avanti, no? Noi abbiamo modulato, praticamente ci sono tre fabbricati a sette piani, poi ci sono tre fabbricati a quattro piani, che sono con colore blu, e poi c'è quello esistente fucsia. Noi, e questo grazie, grazie perché non potevamo sapere, alla grande collaborazione di tanti medici che hanno collaborato con noi, no? È evidente che non si può pensare di fare un intervento di ampliamento e demolizione delle pertinenze esistenti a lotti, se non metti in considerazione una cosa esiziale, cioè fra tutto quanto nell'ospedale, il blocco A, il blocco E, è il blocco della chirurgia, che evidentemente deve funzionare, perché se non finisce, poi dopo, fondamentali, c'è il blocco D, che è quello giallo, dal punto di vista nell'identificazione, che è quello che diventerà poi blu, dove c'è il pronto soccorso, l'emergenza, le sale diagnostiche, la cardiochirurgia, cosa via, che è anche nel fabbricato B, vicino. Quindi noi partiamo dal presupposto che i lotti di edificazioni non devono andare a inficiare la funzionalità delle, diciamo, delle sinergie sanitarie e dei degenti, tant'è che ogni intervento è autonomo a dieci metri l'uno dall'altro, quindi adesso abbiate pazienza, quelli che dicono che, no, non si può, il cantiere, l'ospedale è stato un continuo cantiere all'interno, eppure sono sopravvissuti, e qui invece gli interventi sono autonomi. Adesso vediamo la successione degli interventi. Il problema è per fare 92.000 metri quadrati. Come pensiamo di poterlo fare? Quindi, dato per scontato che la parte quella sopra, dove c'è l'emergenza così rimane, noi cerchiamo di intervenire e non dar fastidio. Allora, il primo presupposto è costruire un fabbricato che possa ricevere quello che sta in un altro fabbricato che demolisco. Quindi il primo fabbricato che ha pertinenze basse, compagni, dove c'è l'officina, dove c'è la parte caldaia, che noi non andiamo a toccare perché faremo in modo tale che il primo lotto, così via, che non tocchiamo la caldaia. Allora, detto questo, ci facciamo quello arancione che è di sette piani e quello blu che è di quattro piani. E lo facciamo a dieci metri dall'esistente e lo colleghiamo in modo tale che già da subito le sale chirurgiche hanno un'espansione di spazio che saranno i competenti chi deve identificare poi le scelte che diranno lì va questo, lì va quell'altro. In ogni caso, qui ci sono già praticamente 10.000 metri quadrati e quello arancione è di 6.250, mi pare, quello a quattro piani. È importante pensare a quattro piani perché questo identifica l'orizzontalità, proprio come prevede lo studio, che se mi permettete, è quello che è depositato al Ministero dell'Italia, che è lo studio veronesi piano, che è il modello. E quindi bisogna inchinarsi a due professoroni di quel tipo lì. Allora, detto questo, abbiamo costruito la prima parte. Quando abbiamo costruito la prima parte, dove andiamo? Andiamo a demolire... Andiamo a demolire la parte lassù. No, perdono, prima di demolire li spostiamo. Allora, se no, fa finire che poi ci chiedono i danni. Allora, detto questo, che cosa succede? Noi dobbiamo spostare le attività meno invasive. Allora, abbiamo pensato a quel fabbricato che è, diciamo, dove c'è l'androne adesso e così via, di ingresso, che è dove ci sono praticamente le attività non proprio essenziali e così via, lo sono, ma non così, che spostiamo da questa parte. E quindi c'è, mi sembra, c'è la parte, diciamo, della patologia, il piano interrato e così via. Scusa? Anatomia patologica. Poi dopo c'è l'oculistica. Poi c'è, diciamo, una parte di ginecologia. Insomma, tutta quell'attività con relative degenze e così via, più o meno sui 10.000 metri quadrati, si spostano in questa prima parte. Quindi abbiamo spostato. E dal momento che abbiamo spostato possiamo demolire quella parte. Poi se procediamo, ecco, contemporaneamente, per fare veloce, contemporaneamente, con lotti diversi, con appalti diversi, e quindi con autonomia di appalto diverso, possiamo fare, perché non dà fastidio, perché non c'è niente, sì, c'è qualcosa da spostare, ma poco, e che è un'altra entità blu a quattro piani che completa la prima parte dell'ingresso futuro dell'ospedale. E questi sono quattro piani di nuovo con 6.250 metri quadrati. Fatto questo, cominciamo già a avere praticamente un'entità di metri quadrati notevoli, no? Adesso dobbiamo pian pianino andare avanti, mantenendo sempre però il collegamento. Vedete che sono sempre collegati tutti i piani, no? Con l'esistente. Non abbiamo ancora inficiato niente. Poi dopo abbiamo la parte centrale, che ci sono due modi di poter intervenire. Non è che bisogna demolire a tutti i costi, però oggi quella manica centrale è larga 15 metri, è più o meno lunga 135. Benissimo. Quella manica lì, volendo, quando è vuota, ma cavolo, con gli ingegneri che ci sono e così via, non è mica una cosa pazzesca ristrutturare se si vuole, altrimenti si demolisce a lotti. Però si può fare a lotti, quindi noi proponiamo che si possano fare a lotti mantenendo sempre la fruizione sinergica delle attività sanitarie a un massimo rispetto della decenza. Quindi continuiamo e completiamo, dopo che abbiamo spostato quelli evidentemente di questa parte qui, demoliamo quella parte e andiamo avanti sempre con questo concetto di spostamento affinché riusciamo a completare la parte centrale. Quindi ecco. Poi, una volta che abbiamo fatto questo, la cosa dobbiamo completare, Michele, dobbiamo completare dall'altra parte, l'arancione. Ecco, questo è esatto, bene. Anche lì spostiamo, demoliamo, e quindi completiamo l'asse centrale di arancione. Andiamo avanti, facciamo ancora, ecco. Fatto questo tipo di discorso, a questo punto noi abbiamo completato, completiamo pure quella parte lì. Allora, esatto, no? Quindi abbiamo solamente più da costruire dove c'è la zona B, la zona A, ma a questo punto è evidente che dobbiamo spostare il pronto soccorso e tutte le attività che ci sono lì, cardiocrirurgico, nella adiacenza, no? Allora, noi completiamo una parte adiacenza che diventerà quello che sarà il futuro fulcro chirurgico e, diciamo, centrale, a quattro piani futuri, che praticamente sarà l'ingresso dalla parte di via Bassiniano che sarà un ingresso, diciamo, con destinazioni, come ha detto il dottor Surrese, di una chirurgia un po' quella che si fa tutti i giorni, tanto per dire, nel senso che un giorno si fa. Ecco, il finale è che questo ospedale può essere un vero ospedale, come noi lo immaginiamo, assolutamente costruibile in sei anni, perché ogni lotto si riesce a fare in due anni. E poi, se qualcuno ha dei dubbi, allora bisogna mettersi in confronto, no? E quindi io non ho problemi, non sono un fenomeno, ma ogni tanto leggo qualcosa. Ecco, detto questo, lasciatemi dire che vorremmo sognare, no? E allora già che ci siamo, vorremmo emozionare. E quindi il mio, con l'amico Michele, vediamo un po' se riusciamo a emozionare anche voi. e quindi facciamo vedere un video presentato. Grazie. Praticamente questo vuol dire che noi facciamo all'interno due percorsi pedonali che identificano il, diciamo, il titolo un ospedale aperto in una città aperta. Cioè è percorribile chi entra, va in due, chiamiamoli così, direzioni, perché sono di dieci metri, e può andare nei vari reparti percorrendo a piedi e quindi in piena libertà. Ecco, questo discorso è che il finale di, diciamo, sarà eventualmente di un futuro la possibilità di accorpare la piazza e poi giustamente come dice anche il Cuneo Centro, il Centro per Cuneo, la via Barsignano potrà diventare una componente integrante senza cambiare il piano regolatore che sia funzionale ancora di più per quanto la vivibilità dell'ospedale. E quindi faremo quello che il piano regolatore prevede, mica una variante. Il piano regolatore prevede che non dobbiamo acquisire, noi non facciamo acquisti. Il piano regolatore prevede che quella piazza lì è del comune e rimane del comune. Ma guarda caso è uno pubblico bisogna trovare un parcheggio pubblico che bisogna trovare delle risorse. Allora a questo punto è diverso fra acquisire e costruire e c'è una bella la diversità è che a confreria devono acquisire 40.000 metri quadrati per fare 140.000 metri quadrati. Noi non abbiamo da acquisire niente perché abbiamo già tutto. Se mai può darsi ma io non sono molto informato su questo da come se mai c'è una potenzialità di far sì che si spostino anche le funzioni di via Carlo Borgia e così via nel palazzo dell'Inps e il costo sarà di nuovo dovrebbe essere a zero perché pare che c'è il sindaco qui che lo sa meglio di me io ho l'impressione che prima o poi deva diventare proprietà del comune. Ecco io forse ho anticipato prima l'emozione la facciamo adesso e quindi chiudiamo con un video abbiate pietà di noi se abbiamo detto delle cavolate e beh pensate alla mia età ecco salvate il giovane e date il vecchio grazie grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa intuire qualcosa di quello che è l'idea progettuale che viene lanciata qua. Allora, adesso lasciamo la parola a Luciana Toselli, che è consigliera comunale di Cuneo per i beni comuni, ma che è anche medico, quindi ha anche un punto di vista più completo. Prego, Luciana. Grazie. Devo dire che mi sono commossa a vedere il video, pensare agli anni che ho passato a lavorare in ospedale e che ne dicano le persone, sempre con un cantiere attivo, perché come si dice comunemente, anche l'ospedale più nuovo nasce vecchio e quindi è previsto in qualsiasi nuovo ospedale un cantiere permanente. L'importante è che il cantiere non vada mai a ostacolare il lavoro, che in questo caso sarà sempre di più un lavoro destinato alle emergenze. Prima di iniziare quello che dovrebbe essere un po' il mio compito, volevo, visto che abbiamo il signor sindaco qua presente, volevo riprendere due concetti che lui aveva espresso e che condivido pienamente, che il centro della decisione, dell'organizzazione della sanità e della salute, in senso lato, e la persona, la persona come paziente e i parenti, le persone che girano intorno al paziente. Il territorio, e questo è fondamentale, ma quello che è altrettanto fondamentale è l'accessibilità. E questo punto merita un minimo sviluppo, anche per capire perché noi vogliamo fare un progetto apparentemente totalmente diverso da quello presentato in precedenza, ma che poi capirete che ha dei grossi concetti in comune. Allora, quello che vorrei proprio sottolineare è che l'avere un ospedale in città è un vantaggio che non ha prezzo. E questo vantaggio non è che se lo togliamo all'ospedale di Cuneo, perché non è più l'ospedale di Cuneo, ma è l'ospedale del territorio, lo possiamo dare altri. Voglio solo dire che la medicina in questi anni ha fatto tantissimi passi avanti. E sappiamo tutti, tutti noi operatori, che ci sono molte patologie che si risolvono totalmente e cambiano il futuro delle persone se vengono risolte nel giro di 20 minuti, 30 minuti. Non esagero. Se togliamo questa possibilità agli abitanti della città, non possiamo darla ad altri, perché normalmente dagli altri ospedali o purtroppo da incidenti arrivano le persone, ma sempre con più ritardo. E i contatti con altri ospedali, i cosiddetti SPOC o con il 118, servono ad impostare interventi in modo che il paziente arriva e entrerà subito a fare esami diagnostici più sofisticati, entrerà in sala operatoria, ma comunque non avrà più la possibilità di poter risolvere quelle patologie che noi abbiamo ancora la fortuna di poter risolvere, perché abbiamo un ospedale in città. E questo, nonostante che noi pensiamo e siamo convinti che sarà un ospedale del territorio, ma l'ospedale che è comunque in città, se è possibile, bisogna mantenerle. Mi sembra che questo video e tutto il discorso che è stato fatto in precedenza dimostri che la cosa è possibile. Sembra più faraginoso, ma intanto ha la possibilità di mantenere la continuità del lavoro fino all'ultimo, perché finché l'ospedale non sarà completamente ristrutturato e ci sarà sempre una continuità. Non ci sarà uno spreco delle attrezzature che in parte, nella parte chirurgica, sono recenti e che possono ancora essere utilizzate per parecchi anni, mentre se si fa una nuova struttura è più il costo dello spostamento che il costo che è previsto per acquistarne altri. Quindi sarà tutto materiale che dovrà essere smaltito, chissà in quanto tempo. E poi quello che avevo già detto al sindaco all'inizio della mia nuova attività in Consiglio Comunale è che quello che veramente noi chiediamo all'ospedale, che già adesso non può fare completamente il suo lavoro, perché un ospedale per l'emergenza deve lavorare 24 ore su 24, sette giorni la settimana. E questo non avviene neanche all'ospedale di Cuneo, che è un ospedale di eccellenza. Perché questo? Perché mancano gli operatori. Quindi tutto questo per dire che il discorso della salute, della sanità, va completamente rivisto. Io sono pienamente d'accordo col discorso fatto nella precedente incontro con il dottor Stefano Quaglia, che ha presentato in modo esemplare quello che sarà e che deve essere già fin da adesso, non fra 15 anni, la medicina del territorio. Cioè bisogna cambiare la visione ospedalocentrica in una visione di medicina territoriale. Solo se noi lavoriamo sul territorio, sulla prevenzione, sui ricoveri inappropriati, sugli accessi inappropriati in ospedale, noi possiamo creare poi un ospedale che pensi all'emergenza. Perché sapete i costi di una struttura hub o comunque già adesso sono enormi. Quindi tutte le degenze, i costi quotidiani sono enormi. Le degenze saranno sempre più brevi e sarà sempre un costo pagato dalle persone anziane, dalle persone croniche, con cronicità, che purtroppo è aumentata perché la quantità di vita è aumentata, ma non è aumentata la qualità di vita. E quindi anche la Regione, in tutte le sue DRG, ha confermato l'importanza del territorio e prevede per il territorio unità complesse di cure primarie con la costituzione di poli ambulatoriali che facciano da collegamento con gli ospedali hub, con gli ospedali cardine, spoc, e con quelli delle aree più disagiate, col territorio. Le case della salute, che in Emilia Romagna, abbiamo già detto anche sulla guida questa settimana e abbiamo sentito già dire, che gli ospedali in Emilia Romagna e in Toscana hanno ridotto il 16% degli accessi inappropriati in pronto soccorso. Il pronto soccorso, vi posso dire, ci ho lavorato 30 anni, potrebbe lavorare meglio, ma non riesce a farlo perché quando il 50% delle persone non dovrebbero arrivare in ospedale, perché dovrebbero essere seguite sul territorio, vengono nei reparti, nei locali del pronto soccorso, si rallenta anche tutto quello che è l'intervento per le vere urgenze. E tante volte si arriva a dei ricoveri inappropriati, perché se noi mandiamo a casa, a domicilio delle persone dove l'assistenza domiciliare non c'è, dove non si possono fare degli esami con una certa velocità, tutte queste vanno a gravare sull'ospedale, senza contare che purtroppo, lo sappiamo tutte, le persone anziane verranno sempre rimesse più velocemente. E dove andranno? Quindi ci vuole, proprio per far funzionare bene l'ospedale delle emergenze, bisogna creare delle strutture, quello che si dice la città della salute, e poi tutto quello che è il discorso della cronicità, che purtroppo sarà il problema, non fra 15 anni, ma il problema esistente. Perché questo? L'abbiamo visto, la pandemia non ha fatto che esasperare quelli che conoscevamo, i problemi che già conoscevamo. Allora, le persone anziane, semi autosufficienti, hanno tutto il diritto di mantenere la loro autonomia, ma hanno bisogno di co-housing, delle residenze sociali, dove si possono avere dei servizi in comune. Le RSA meritano un discorso a parte, perché hanno sempre di più una componente sanitaria, e vedrei bene, una lungodegenza, o cosiddetto, ospedale di comunità per la città di Cuneo, perché le persone anziane che vengono dimesse dal nostro ospedale devono fare il giro della provincia e passare da un ospedale all'altro per poi, poverine, cadere e finire la loro vita anticipatamente, perché sappiamo tutti che un ricovero per un anziano è come una patologia acuta gravissima. Quindi, strutture che mantengano al più lungo possibile l'autosufficienza, e strutture in cui la forte componente sanitaria deve essere affrontata seriamente. E l'abbiamo visto nelle pandemie che le strutture con forte componente sanitaria non possono non avere un medico nella struttura, avere del personale carente, e poi certo che appena succede un qualcosa al di fuori della routine, succede il finimondo. Quindi, questo è il vero problema. E soltanto, se noi vogliamo fare un vero ospedale hub, un vero ospedale per le emergenze, dobbiamo parallelamente far crescere tutto quello che deve essere la cosiddetta casa della salute, la prevenzione, e la cura della cronicità. E per fare tutto questo, di cosa abbiamo bisogno? Del personale autamente qualificato. e sappiamo che gli specialisti non li creiamo in tre anni, ma ci vogliono dieci anni. Quindi, in questi dieci anni, noi non dobbiamo solo pensare a fare un nuovo ospedale. Noi in questi dieci anni dobbiamo parallelamente mettere in funzione al meglio l'ospedale, che secondo noi può essere quello esistente, creare tutto quello che deve impedire il gravare di tutte queste patologie sull'ospedale, fare una medicina del territorio nel rispetto della persona, perché nessuno va volentieri in ospedale se può essere seguita a casa dal proprio medico e può prevenire altre patologie, perché sappiamo che negli ospedali si muore molto spesso per infezioni. Perché? Perché si selezionano dei batteri molto virulenti. e quindi meno si sta in ospedale meglio è. Però bisogna avere delle strutture alternative. E il terzo punto, che direi allo stesso livello, dobbiamo fin d'ora investire sul personale, perché io vado anche a farmi operare a Saluzzo, voglio dire, se c'è un medico di cui mi fido. Quindi il problema è della personale che adesso è carente, quanti reparti in ospedale non riescono a funzionare bene nel weekend, nella notte, non in tutte le ore del giorno. C'è una urgenza neurochirurgica, cardiochirurgica deve essere affrontata in quel momento, non rimandata il giorno dopo. Questo per inquadrare il problema. Poi direi che sono tutti argomenti che bisognerebbe affrontare uno per uno. Però mettiamoci proprio davanti il grosso problema, che l'ospedale non è la cosa principale. L'ospedale funzionerà bene se noi cambiamo la visione della sanità sul territorio. Grazie, grazie a Luciana, a Toselli, anche per la concisione, la chiarezza dell'esposizione. Che è andato più sulla sostanza di quello che è il servizio che deve fare la sanità. Ecco, adesso non so bene chi deve... Allora, il dottore Ernesto Principe della Segreteria regionale della NAO, quindi l'Associazione Sindacale dei Medici Ospedalieri, quindi un punto di vista ancora diverso, ma anche consigliere comunale a Cuneo è stato. Quindi, di questo, per dire che conosce la macchina amministrativa, siamo sempre all'interno di un percorso di chi si interessa della vita della città. Prego, Ernesto. Buonasera, io lavoro a Cuneo dal lontano 88, sempre lavorato in questo ospedale, sono arrivato da Napoli come non giovane ma di come ero all'ultimo anno della seconda specializzazione in ossetrice e ginecologia e l'Università di Napoli mi dette l'autorizzazione a finire la specialità perché il primario della ginecologia era il professor Campogrande che era già allora una eminenza nazionale. Questa dimostrava della qualità di questo ospedale già alla fine degli anni Ottanta, qualità che poi si sono accresciute nel corso degli anni. E a mio ricordo l'ospedale Carle è sempre stato considerato un presidio molto periferico era dedicato alle malattie infettive agli isolamenti addirittura quando ci fu la grande ristrutturazione con la dismissione di Villa Santa Croce non fu nemmeno preso in considerazione per gli uffici dell'ospedale Santa Croce di Cuneo visto che era molto periferizzato. Poi a causa del bisogno di spazi di alcune scelte di politica sanitaria qualche attività era stata portata lì c'è stato un grosso spostamento negli ultimi circa dieci anni che ha portato praticamente a creare due presidi ospedalieri. Ora con la creazione dell'ospedale unico si vogliono centralizzare i servizi ma che questo poi alla fine sia un vantaggio è tutto da dimostrare. Lo studio di prefattibilità praticamente la fondazione ospedale Santa Croce di cui io mi onoro di essere uno di essere stato uno dei soci fondatori ha avuto non ho capito bene se ha avuto l'incarico dalla commissione consigliare di fare questo studio di prefattibilità oppure da solo si è arrogato questo diritto e ha presentato questo studio con degli ottimi professionisti che sono da anni nella sanità soprattutto in regione Lombardia uno forse ancora è stato nel direttivo del famoso Pialbergo Trivulzio un altro di questi architetti ha fatto uno studio di prefattibilità all'epoca Formigoni di un mega ospedale a Legnano quindi persone che nella sanità ci sono sempre state non abbiamo quindi dubbi sulle loro capacità di fare questo studio di prefattibilità però sicuramente non hanno tenuto conto dei bisogni dei cittadini e della città di Cuneo poi dei grandi sponsor di questo progetto grandi professionisti medici che lavorano e che ci hanno lavorato a Cuneo auspicano questo spostamento ma sono tutte persone scusate la battuta che ci hanno sempre lavorato a Cuneo ma non ci hanno mai abitato non hanno mai stabilito residenza in questa città quindi al contrario di noi che abbiamo vissuto la città e l'ospedale diciamo che hanno solo vissuto la parte sanitaria ma non la parte comunitaria della città per cui tutti questi aspetti non se ne è tenuto conto di tutti questi aspetti un'altra cosa che a noi manca e io parlo come rappresentante dei medici e chi è che ha stabilito i bisogni dell'ospedale Santa Croce e su quali criteri sono stati stabiliti questi bisogni e quindi tutte le volumetrie che si sono messe in campo per questo futuro ospedale unico si è paventato l'ospedale Santa Croce come ospedale provinciale di sicuro l'ospedale Santa Croce dal punto di vista di qualità è una hub provinciale io in tanti interventi fatti nell'ultimo anno dall'assessore ho sempre sentito parlare come l'ospedale di Cuneo non provinciale ma come l'ospedale che si interessava diciamo del sud della provincia di Cuneo hub soprattutto per quello che riguarda le emergenze perché se uno vuole fare un hub regionale il progetto deve essere della regione e c'è bisogno di una ristrutturazione degli ospedali del territorio e mettere tutto in rete a me sembra strano che si voglia fare l'ospedale principale l'ospedale hub della provincia Cuneo e contemporaneamente si è creato una mega struttura alba si sta creando una mega struttura a Savigliano che c'è un progetto di nuovo ospedale di Savigliano portato avanti in modo forte esiste un progetto da vent'anni addirittura di nuovo ospedale di Fossano c'è un nuovo ospedale di Mondovì ancora da riempire quindi a me sembra che l'hub di Cuneo venga indicato come un hub per le emergenze stabilire un hub per le emergenze in parte non ben servito alla viabilità come può essere l'area del Carle a noi operatori sanitari sembra abbastanza strano un'altra cosa che ci preoccupa molto è la cosa principale i livelli di assistenza alla qualità del nostro lavoro nei prossimi 10-15 anni cioè in tutti questi anni che servono per costruire questo nuovo ospedale unico quali saranno saranno anni di grande criticità perché di sicuro non ci può essere un aggiornamento tecnologico in questi anni sarebbero soldi sprecati perché come diceva la dottoressa Doselli prima non si trasferiscono i macchinari i macchinari vanno sostituiti a prendere un ospedale nuovo per cui noi rimarremo assolutamente fermi per i prossimi 10-15 anni e un ospedale fermo attira personale qualificato le mura dell'ospedale i bei macchinari chi li fa funzionare se non ci sono medici di alta qualità come ci sono ora l'ospedale di Cuneo è ancora un ospedale attrattivo che può permettersi queste cose sono tutte cose da tenere presenti mettere in campo milioni e milioni tra i vari progetti un ospedale nuovo 300 la ristrutturazione di Santa Croce 150 milioni non si parla di bruscolini e questi soldi da qualche parte vanno presi ma alla fine finiscono sempre nel bilancio dello Stato che qualcuno dovrà appianare e siamo sempre noi contribuenti magari rimettendoci sulle retribuzioni sulle pensioni future e così via come è stato con vecchi governi tecnici per cui la cosa migliore secondo noi sarebbe far funzionare bene quello che c'è aggiornare quello che c'è anche se non si fa un ospedale unico magari un ospedale su due presidi con questa pandemia ha dimostrato che può essere un ospedale utile avere su due presidi che puoi isolare le cose magari sfruttare tutti i finanziamenti per migliorare le strutture che ci sono e per metterli in collegamento in modo veramente efficace comunque tutto quello che sta succedendo ora si scontrerà nel futuro con la carenza assoluta di medici ce ne stiamo accorgendo i medici sono sempre meno i piani messi su dall'università per la formazione sono stati fallimentari scusate se parlo al nome del mio sindacato ma la NAO sono anni che si sta battendo per la formazione negli ospedali cioè la formazione dei medici specialisti in ospedale saltando alla formazione dell'università ai miei anni si poteva benissimo fare la formazione in ospedale si era assunti da laureati senza una specializzazione e con cinque anni di lavoro in ospedale si diventava degli specialisti noi auspichiamo questo per far sì che aumentino gli specialisti che possono benissimo insisto essere formati negli ospedali l'ultima preoccupazione che ci viene in mente in tutto questo è che non si vogliano creare delle strutture per l'emergenza urgenza come può essere l'Hub del Santa Croce mentre dirottare su altre strutture non a Cuneo ma in tutta la provincia che hanno tanto la capacità economica quanto le nuove strutture per spostare verso questi ospedali quelle che noi diciamo la elezione magari in partnership con il privato tutto questo sul modello Lombardo modello Lombardo che tutti quanti quando si parla di grande medicina ne parlano con entusiasmo tutti dimenticano che il modello Lombardo ha grandi intrecci con la sanità privata la sanità privata è fatta per guadagnare non solo per dare salute e ricordiamoci gli esempi della Santa Rita dell'antico San Raffaele con tutti gli scandali che ce ne sono stati in questi connubi pubblico privato grazie grazie a dottor principe molto molto chiaro anche giustamente non direi polemico ma critico nel mettere in evidenza quelli che sono anche i rischi adesso lasciamo la parola alla presidentessa dell'associazione di piazza in piazza Armanda Bellazzini prego buonasera a tutti dunque a noi tocca il compito di riportare il discorso un po' fuori da questi grandissimi temi e vedere un po' con lo spostamento eventuale dell'ospedale al Carle o l'ospedale a Cuneo dove sta che cosa comporta per l'utenza soprattutto per quanto riguarda la mobilità allora se mi da la cartina generale grazie la prima secondo i dati gli ultimi dati sulla distribuzione della popolazione nel comune di Cuneo pare che sull'altipiano abiti il 55% di tutta la popolazione nell'oltregesso il 14 e il 5 nella zona di San Rocco se noi spostiamo l'ospedale al Carle si dovrebbe portare un buon numero di persone dall'altra parte del del fiume Stura senza contare tutto il bacino extracomunale che sta appunto ad est dell'Ostura mi riferisco a Boves a Peveragno tutta la piana verso Fossano quindi noi dovremmo portarlo oltre Stura e questo significa che la maggior parte delle persone dovrebbero usare l'est-ovest il ponte nuovo e il ponte vecchio anche se in modo limitato perché insomma è piuttosto stretto la carreggiata allora e chi si sposterà in quella direzione si sposteranno i dipendenti i pazienti i fornitori chi necessita gli esami i familiari e i conoscenti dei malati quindi su quella zona su quei tre ponti su quei tre passaggi insisterà tantissimo tantissima mobilità e che si che andrà ad aggiungersi a quella che proviene da Madonna dell'Olmo dalle valate e strastura e quindi sarà una bella un bel un bel traffico in quelle che si accentra tutto su queste tre queste tre zone abbiamo anche provato a immaginarci come si può raggiungere il Carle oltre l'Ostura abbiamo provato a riassumerlo in questa scheda qui in giallo a sinistra vedete tutte le zone di provenienza in orizzontale i possibili tipi diversi di mobilità la pedonale la ciclabile il treno gli autobus e l'auto allora in verde vedete la massima possibilità di spostamento ed è data dall'auto l'autobus anche ha una grossissima possibilità di essere utilizzato il problema che andrebbe adeguato il treno è ridotto soltanto a chi viene dalla pianura e dalle vallate e anche in modo parziale poi la ciclabile è praticamente impraticabile per chi viene da San Rocco o da Oltrestura e dall'Oltregesto perché comunque San Rocco non può utilizzare l'est o ovest che non è ciclabile chi viene dall'Oltregesto ha grandissime difficoltà ma anche chi viene dall'altipiano teniamo presente che la ciclabilità sul Ponte Nuovo è abbastanza difficoltosa è stretta è pericolosa chi viene poi si ritrova comunque sulle tre rotonde quella di Confreria quella del Ponte Vecchio e quella del Ponte Nuovo si ritrova lì sopra ed è abbastanza pericoloso ecco allora se noi vogliamo rendere è un pochino più efficiente la comunicazione tenendo sempre presente che è comunque l'auto il mezzo di elezione per passare dall'altra parte se noi vogliamo rendere efficienza mi dà la seconda cartina generale la cartina se la vogliamo rendere efficiente chiaramente ci sono degli adeguamenti stradali che dobbiamo fare vedete le due frecce rosse allora lì sul ponte dove si vede l'incrocio la rotonda del ponte dell'est-ovest e là è l'uscita dalla galleria est-ovest rotonda di Confreria in quella zona lì dovremmo trovare un modo per ovviare all'entrata e l'uscita dal Carle attualmente si entra e si esce soltanto da quel varco nella cinta muraria stretto su una stradina stretta con poca visibilità che esce fra le case praticamente quindi lì bisognerà senz'altro trovare una soluzione per le entrate e per l'uscita e quindi sono comunque lavori che si aggiungono al costo della costruzione dell'ospedale così come senz'altro bisognerà pensare a una circonvallazione per Madonna dell'Olmo che già adesso soffre di un traffico eccessivo soprattutto in alcuni momenti della giornata allora questi appunto sono tutti adeguamenti che sarà necessario fare visto che l'auto resterà a situazione attuale l'unico mezzo utilizzabile in modo efficace per andare dall'altra parte quindi al costo diciamo così economico dovremmo comunque aggiungere il costo ambientale perché lo spostamento in auto sappiamo già tutti che cosa che cosa comporta in fatto di gas di scarico ecco se invece volessimo raggiungere il Carle puntando di più sulla mobilità diciamo più più leggera come il trasporto pubblico eccetera dovremmo pensare senz'altro un free bus cadenzato tipo metropolitana che passi ogni dieci minuti partendo dalla stazione di Cuneo verso il Carle ma poi non basterà perché la zona di San Rocco resta fuori perché Borco e Gesso resta fuori e comunque se i bus non hanno un'efficienza elevata la gente continuerà a preferire l'autobus per spostarsi quindi se non è vantaggioso non si prende l'autobus ecco si dovrà pensare anche a rivedere il bus extra extraurbano con gli orari con le frequenze si dovrà pensare a rendere sicure le ciclabili e su tre rotonde con quella diciamo con quella densità di traffico non sarà non sarà facile che poi non sono tre i ponti perché per le biciclette il ponte dell'est-ovest non è non è utilizzabile se invece noi pensassimo a tenere l'ospedale nuovo al Santa Croce si parte da tutto un altro piano nel senso che tutte le possibili tutti i possibili mezzi di trasporto sono abbastanza utilizzabili anche perché appunto ci sono delle infrastrutture che vanno avanti da anni quindi voglio dire non partiamo da zero si potrà andare a piedi in bicicletta dall'alto piano si potrà prendere un bus e anche l'auto privata ma comunque potremmo non considerarla più il mezzo di elezione per raggiungere l'ospedale e vedete il verde che dà la possibilità maggiore di spostamento è abbastanza denso quindi non siamo costretti a usare un unico mezzo naturalmente noi dovremmo pensare se l'ospedale resterà a Cuneo a incrementare i parcheggi questo poco ma è sicuro dopo aver sistemato comunque i dipendenti dell'ospedale in parcheggi dedicati privati sotto la nuova costruzione e quindi non dovrebbero pesare di più tanto sull'organizzazione cittadina poi abbiamo comunque il movicentro che dovremmo pur cominciare a dare un senso a quel luogo che per il momento pare che un senso non ce l'abbia ecco potremmo pensare al parcheggio sotterraneo in piazza di Cavaliere di Vittorio Veneto e lasciare finalmente accantonato il parcheggio sotterraneo in piazza Europa potremmo pensare naturalmente al free bus certamente però non avremo bisogno di tutte quelle linee che sono necessarie casomai per portare le persone al carle e potremmo anche finalmente concentrarci per ottenere qualcosa sulla sulla ferrovia che voglio dire non è cioè sembra sembra un problema irrisolto sembra un problema che nessuno voglia risolvere che non si possa risolvere e dovremmo concentrarci lì sopra un'ultima cosa che secondo me va proprio sottolineata se noi prendessimo tutti questi provvedimenti quindi adeguamenti stradali collegamenti free bus pubblici di ogni genere per usarli al carle avremmo dei servizi dedicati solo all'ospedale poco utilizzabili per il resto della popolazione se noi potenziamo invece i parcheggi al centro di Cuneo e comunque la mobilità al centro di Cuneo questo andrà a vantaggio di tutta la popolazione quindi io non faccio un investimento parziale faccio un investimento molto vasto molto vasto e quindi a vantaggio di tutto un territorio e in conclusione allora sono considerazioni molto spicciole basate proprio sull'esperienza quotidiana che mettiamo lì vanno approfondite con dei dati che noi non abbiamo con delle considerazioni che non abbiamo preso non abbiamo sottolineato però ci sembrava importante mettere sul tavolo anche questo problema che non pare che sia molto preso in considerazione e appunto chiediamo semplicemente che tutti questi spunti vengano presi e messi su quel tavolo dove stanno già delle altre proposte e ci piacerebbe essere sicuri che la decisione sul nuovo ospedale non sia ancora stata presa non sia ancora stata presa che ci sia ancora spazio per contributi idee e soprattutto per informazione e coinvolgimento del resto io ricordo che questo della condivisione era stato un impegno preso all'interno del Consiglio Comunale grazie 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 alla presidentessa di Piazza in Piazza Armanda Bellazzini adesso la parola passa Domenico Sanino che è presidente di Pro Natura Cuneo prego Domenico buonasera buonasera a tutti allora come mai sono qua quando si è incominciata a parlare del nuovo ospedale Pro Natura è stata coinvolta dai soci e da molti cittadini proprio per avere una qualche osservazione sulle proposte che venivano fatte quindi è iniziato questo lavoro di analisi con l'aiuto di molti medici di architetti di urbanisti che ci ha portato poi alla conclusione e poi vi dirò anche il perché della scelta appunto del Santa Croce intanto vorrei solo soffermarmi un attimo su quello che ha detto prima Luciana Toselli perché è un interrogativo che ci dobbiamo porre in questo momento quale sarà la medicina del futuro che cosa ci servirà avere quali saranno gli spazi che dovranno essere dedicati all'ospedale rispetto a tutta la medicina a distanza o la medicina territoriale mi sembra che su questo punto non ci siano state delle grandi analisi vedo grandi volumi non vedo un'analisi effettiva sulla medicina del futuro però perché come pro natura riteniamo che la scelta dell'ospedale che si vorrà realizzare debba essere al Santa Croce primo perché non possiamo più consumare suolo vergine suolo agricolo siamo in un momento tragico noi in questa fase siamo angosciati giustamente dalla pandemia ma non pensiamo che il cambiamento climatico è alle porte che sta arrivando con una velocità spaventosa e che causerà tutta una serie di problemi anche sanitari quindi oggi come oggi noi non possiamo più alterare il suolo dobbiamo piantare piante dobbiamo avere il verde a disposizione al Carle c'è poco da fare tra la superficie che verrà coperta dall'edificio più i parcheggi di ettari di suolo vergine ne spariranno tanti ma questi come è stato fatto osservare prima bisogna aggiungere tutto quel terreno che la viabilità si porterà via perché non potremmo arrivare al Carle con le strade attuali quindi nuove strade nuovo cemento e asfalto che verrà messo sul terreno libero Sturlese ha fatto un accenno al problema paesaggistico che è un altro punto che va assolutamente tenuto presente il nuovo edificio al Santa Croce non impatterà più di tanto sulla città perché avrà le altezze che già oggi ci sono non è non sarà mai l'edificio del centro finanziario quel grattacielo orribile che vediamo dappertutto ma al Carle cosa verrà fuori da Cuneo si vedrà questo non lo definisco mostro questo edificio che certamente sarà grande sarà impattante sarà fastidiosa all'estetica ma poi c'è un altro aspetto che a parere mio non solo mio va tenuto presente il Carle è un edificio del 1935 con una sua architettura particolare precisa che giustamente non potrà essere abbattuto dovrebbe essere rivitalizzato con le nuove tecniche di riuso adattivo che oggi vanno molto di moda tra l'altro anche un accesso splendido molto trascurato perché c'è questo viale che finisce in una piazza semicircolare con gli alberi lei vuole era stata disegnata in un modo perfetto dovrebbe essere rivalutato rivisto bene questo edificio potrà essere riutilizzato e trasformato e sarà un piacere vederlo se non avrà dietro quell'enorme struttura che sarà il nuovo ospedale quindi anche solo per quest'ottica di conservazione di una memoria storica che potrà essere facilmente riutilizzata dovremmo avere l'attenzione a mantenerlo in questa situazione già è stato ricordato l'altro punto fondamentale per il Santa Croce la ferrovia ora credo che siano pochi gli ospedali in Italia che hanno la ferrovia a 100 metri guardate che c'è Savigliano e infatti lo si vuole spostare non è da trascurare questo aspetto anzi dovrebbe essere fondamentale perché la mobilità futura punterà sempre di più sulla ferrovia rispetto alle auto e a quant'altro nella precedente nel precedente incontro che c'è stato qui alla guida proprio sull'ospedale sono state avanzate delle suggestioni allora vorrei rientrare in questo per il Carle perché non pensiamo attorno al Carle di fare un parco magari un orto botanico con qualche serra per rivitalizzare anche quella zona in modo diverso è un polo universitario si è parlato di fare questo polo universitario a Santa Croce ma forse è molto meglio averlo al Carle io chiuderei qui vista anche l'ora tarda in modo da non prolungare eccessivamente grazie a voi e buona serata grazie al professor Sanino molto chiaro anche la sua posizione a questo punto invito a a parlare Bruno Piacenza che è presidente di Lega Ambiente Cuneo prego buonasera sarò brevissimo anche perché l'ora è tarda uno degli aspetti che è stato messo in comune cioè in comune in discussione è stato quello del rumore io sono un chimico non sono un esperto di rumore però venendo qui mi sono scaricato una delle tante applicazioni che potete trovare di fonometro il livello di rumore che non era rumore di questa sera della conversazione è più o meno 40-45 decibel tutti voi che siete stati per vostra fortuna a fare cose piacevoli in Santa Croce vi siete sempre resi conto che il traffico di Corso Moviso non dava nessun fastidio io ho fatto pratica nel laboratorio analisi che sopra alle camberi mortuari per mesi e nonostante allora i vetri fossero ancora vecchi non c'era nessun impatto del traffico da quando abbiamo brillantemente risolto con l'est-ovest i problemi di Corso Moviso e Corso 4 novembre io sono andato 35 anni a insegnare all'ITI non ho mai avuto problemi anche perché magari andavo in bici di traffico e poi pensate che in una ristrutturazione come avete fatto a casa vostra mettete i doppi vetri anzi dal primo gennaio scorso mettete i tripli vetri se volete il contributo dell'Enea e poi a casa mia oltre ai doppi perché non c'era bisogno dei tripli per il Cuneo non abbiamo questi problemi climatici basta un vetro apposta e il rumore non esiste più è un vetro sottilissimo stratificato oramai la nostra tecnologia è proprio quella anche cuneese riesce a fare tutto quello che si vuole quindi il fatto che le scuole e gli ospedali rispetto a una legge del 2004 sono giustamente assieme alle case di riposo protetti dal rumore del traffico per nostra fortuna la nostra città non è soggetta da tempo a un traffico grosso il traffico invece lo vedete tutte le mattine all'incrocio della rotonda del Ponte Nuovo c'è chi tenta di arrivare da Caraglio e da Nero c'è chi tenta di arrivare a Madonna e dell'Uomo vi anticipo e il nostro assessorato all'ambiente lo sa che noi promuoveremo una campagna di monitoraggio con dei campionatori passivi assolutamente innocui e due li piazziamo proprio uno verso Caraglio e l'altro verso Madonna e dell'Uomo e vedremo la quantità di traffico a questo punto magari uno lo metteremo già a Le Caraglio tutti voi che siete andati a Le Caraglio ricordavo benissimo Armanda avete trovato dei problemi di traffico le strade sono piccole è vero che probabilmente indipendentemente dal nuovo ospedale a Le Caraglio bisognerebbe rivedere le viabilità sono anni signor sindaco che parliamo di una tangenziale però io voglio anche ricordarvi alcune cose io sono un po' più giovane di alcuni di quelli che hanno parlato ma nel lontano 85 noi ambientalisti questi rompiscatole ci battevamo contro la cosiddetta cuneoasti perché era cosiddetta perché noi avremmo preferito un tracciato che attraversava Fossano e andava direttamente a Marene e ancora un'opera incompiuta mi dispiace e devo dire mi dispiace perché non solo è incompiuta ma proprio perché è incompiuta poco utilizzata e guardate che l'impatto nel fiume Stura di quest'opera è rilevante adesso abbiamo delle piante che crescono ma pensate alla circonvalazione di Fossano un'altra opera che io ritengo incompiuta perché non si riesce non sto accusando il nostro presidente della provincia ci mancherebbe o addirittura alluvione a parte l'incongruenza del progetto cioè del modo con il quale è stato pensato il tenda però di incompiute secondo me ne abbiamo abbastanza io preferirei una soluzione a minore impatto io ritengo e sono qui per dirlo che il progetto ha ancora tutto da definire di ristrutturare senza consumo di suolo con tecnologie moderne perché il nuovo guscio si potrebbe fare con un risparmio si potrebbe dico addirittura fare di classe A potrebbe essere coperto di pannelli di fotovoltaici si potrebbe sfruttare il fatto che di sotto tutti sappiamo che c'è un'ottima sorgente d'acqua che in alcuni reparti si usava tutte le sere ottima ma allora a quel punto si possono fare anche delle pompe di calore se c'è l'acqua a quel livello lì e quindi ottenere contributi contributi europei perché giustamente soprattutto questa nuova commissione vuole un'Europa che sia un esempio nel mondo come impatto ambientale e ricordatevi bene il Covid ci ha colpito tutti soprattutto questa nostra seconda ondata ci vede tutti a ringraziare il sacrificio di più di 300 medici giusto e non parliamo del personale infermieristico in Italia anche tra di noi però l'ondata del cambiamento climatico è diciamo potenzialmente ma realmente molto più pericolosa è impattante sulla vita ma anche di noi cunesi guardate e concludo veramente perché sapete che a Parigi più o meno si era deciso che al massimo potevano essere un grado e mezzo o due se voi andate su un sito abbiamo scritto un articolo su un giornale che è italiano a Cuneo questo grado e mezzo negli ultimi 15 anni ce lo siamo già fatti e questo dice vabbè Cuneo è città di pianura non è vero ma se voi andate verso la montagna in alcuni casi si sono già fatti due di grado in più rispetto a quello che erano temperature medie oramai si può dire del secolo scorso e l'impatto sarà enorme avremo malattie nuove lo zica queste portate dalle zanzare dovremmo abituarci a un clima quasi tropicale e quindi viva la sanità del territorio e pensiamo al riscaldamento io vi ringrazio e spero che il dibattito continui grazie grazie al presidente di Lega Ambiente Cuneo adesso sì il dibattito continua adesso siamo in chiusura e chiudere come già il precedente dibattito tocca al sindaco di Cuneo nonché presidente della provincia ha chiamato in causa su più fronti il quale intanto dovrà dirci subito se davvero la decisione è già presa se il consiglio comunale voterà diciamo a scatola chiusa il progetto Carle oppure se c'è ancora qualche margine se c'è ancora senso se c'è la possibilità di prendersi magari ancora un po' di tempo per approfondire questi temi e questa riflessione prego sindaco grazie direttore buonasera a tutti buonasera e grazie innanzitutto agli organizzatori di questo di questo convegno di questo di questo momento di confronto penso che una un un intervento come quello che quello di cui stiamo parlando questa sera nelle settimane scorse nei mesi scorsi e negli ultimi tre anni in modo piuttosto intenso valga la pena e credo che una decisione di questo tipo non la si possa mai prendere a cuor leggero o come è stato detto l'altra sera durante il dibattito nella commissione consigliare non è mai cento a zero non è mai bianco o nero si tratta sempre di decidere intorno a delle tonalità di grigio per arrivare alla domanda che mi ha posto il direttore in apertura di conclusione il consiglio comunale sovrano l'ufficio di presidenza della commissione consigliare ha preparato una bozza una bozza di delibera che verrà sottoposta al consiglio e come bozza di delibera è ovviamente emendabile in tutte le sue parti quindi insomma il dibattito è aperto io credo onestamente che il confronto su questo tema sia stato un confronto lungo e approfondito in tutte le sue parti credo che i tempi per una decisione siano maturi e appunto vale il fatto che la decisione viene presa su tonalità di grigio e non sul bianco o sul nero penso che questa sera siano emersi degli spunti di riflessione importanti e concludere e fare conclusioni non vuol dire fare come si dice la dissenting opinion secondo me il mio compito è cercare di fare una sintesi e cercare di estrarre alcuni punti di approfondimento che sono emersi e quindi non so un tema che è stato posto al centro dall'intervento dell'architetto Bodino è il tema del tempo della realizzazione dell'opera e credo che il tempo sia effettivamente una variabile importante in questo tipo di intervento va detto che i sei anni indicati dall'architetto non sono così in contrasto con i tempi indicati nello studio di fattibilità che hanno portato a 15 anni non sono così in contrasto perché un conto sono i tempi di cantiere un conto sono i tempi necessari prima di arrivare al cantiere e certo è che io sono convinto che 15 anni sia un termine non sostenibile dalla nostra città bello sarebbe se fosse possibile avere in sei anni un nuovo ospedale sull'altipiano al Carle perché ci aprirebbe la possibilità di andare a raccogliere finanziamenti che hanno a che fare sia con la realizzazione dell'ospedale perché sarebbero tempi coerenti con i recovery fund sia con la rigenerazione dell'area non selezionata quindi voglio dire il tema del tempo è un tema centrale rispetto al tema come la volta scorso detto se si sceglierà il Carle non possiamo permetterci di avere la sede del Santa Croce che faccia la fine dell'ex Santa Croce nel centro storico cioè di avere quel contenitore vuoto per 50-60 anni allo stesso modo mi sento di far emergere alcune fragilità che secondo me vanno focalizzate sull'intervento sull'altipiano e cioè uno è vero che da quando è stato diciamo inaugurato il Santa Croce che conosciamo oggi ad oggi lo ha detto Luciano Toselli è stato un continuo cantiere mi preoccupa un po' l'idea di coesistenza con un cantiere così grande per un numero di anni che va da 6 a 8 a 9 a 10 non so quanto possa essere la durata cioè mi preoccupa un po' la coesistenza tra un ospedale che deve funzionare ed un cantiere così grande un tema che secondo me va affrontato ed è un tema importante da approfondire è l'ampliabilità cioè il Santa Croce inaugurato negli anni 60 era stato progettato dall'ingegner Saglietto in un certo modo il Santa Croce di oggi è molto diverso molto più insomma si è ampliato e si è ampliato parecchio quindi il tema dell'ampliabilità di un ospedale è un tema è un tema importante che non che non che non può essere sottovalutato e c'è un tema che è emerso nel confronto in commissione e cioè il tema della raggiungibilità dell'eliporto il nostro è un'idea di secondo livello l'eliporto sul centro della città non è fattibile bisogna capire nel rapporto costi benefici rispetto a quello che è il servizio sanitario la presenza o meno dell'eliporto che cosa comporta quindi sono alcuni temi che secondo me se si vuole fare un raffronto laico vanno messi sul tavolo e vanno approfonditi il tema della sanità il rapporto sanità ospedale sanità territorio sottoscrivo in toto l'intervento della consigliera Toselli quello che noi vivremo nei prossimi anni sarà un profondo cambiamento della sanità della sanità intesa come sanità trattino salute la telemedicina avrà dei risvolti nella progettazione dei servizi sanitari che ad oggi secondo me non siamo ancora in grado di immaginare e di concepire certo è che credo che i servizi ospedalieri tali rimarranno e certo è che l'emergenza covid ma questo è un dato condiviso indipendentemente dal luogo che poi verrà scelto ha fatto emergere la fragilità delle strutture ospedaliere non solo della nostra struttura ospedaliera in tema di divisione di spazi di percorsi e di spazi sporchi e puliti come si dice in gergo certamente centrale a qualsiasi tipo di ragionamento è che nel tempo in cui si andrà verso la costruzione di un nuovo ospedale unico che è un dato condiviso in consiglio comunale intendo non con l'intervento del dottor Principe certamente non possiamo permettere consentire ma non può consentirsi neanche chi ha la responsabilità della funzione sanitaria di tutela della salute dei cittadini immaginare di abbandonare se stessa la traiettoria dell'ospedale non scelto cioè immaginare di non investire più sui servizi sanitari sarebbe pericoloso e preoccupante nell'emore della realizzazione di un nuovo ospedale ed è tanto vero questo quanto è vero che in Italia arriviamo da un periodo di decenni di disinvestimento dal sistema sanitario di disinvestimento sulla programmazione delle risorse umane in ambito sanitario cioè è sotto gli occhi di tutti in questi mesi dove la pandemia davvero ha fatto un ruolo di crash test di un sistema dove c'è una carenza strutturale di infermieri e vediamo che la sanità porta via gli infermieri al privato il privato porta via gli infermieri al sistema delle case di riposo e alla fine l'unico dato reale è che c'è stata una programmazione sbagliata nella formazione nei percorsi di formazione di infermieri di medici probabilmente anche di 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 al quale opponiamo rimedio o ci assumiamo la responsabilità di aver visto un problema aver fatto finta che questo problema non non esistesse l'accessibilità del della struttura è un tema centrale sia che essa sia la santa croce sia che essa sia il carlo perché la raggiungibilità della struttura e nelle nelle patologie tempo dipendenti è un dato centrale e quindi da qui la riflessione sull'eliporto da qui la riflessione sul fatto che se si andrà verso il Carle sarà necessario infrastrutturare ulteriormente la dotazione viaria della della nostra città va detto che insomma è già stato un tema ampiamente dibattuto la la necessità di immaginare una circonvalazione o una tangenziale a seconda della proiezione futura che diamo a quell'infrastruttura credo che sia un dato abbastanza condiviso il tema del però appunto sull'accessibilità della della nuova struttura ospedaliera bisogna avere certamente avere a cuore la fruizione della della struttura ospedaliera da parte dei cittadini residenti a Cuneo però bisogna sempre veramente il fatto che gli utenti del Santa Croce residenti a Cuneo sono una minima parte rispetto 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 al totale il tema del consumo di suolo e il tema del rispetto dell'ambiente è un tema al quale non ci si può sottrarre nel bilanciamento degli interessi tra il diritto alla salute e il consumo di suolo insomma a parità di condizioni certamente bisogna avere attenzione per l'ambiente tra i due tra i due tra i due insomma dovendo bilanciare i due interessi mi rendo conto che insomma se la soluzione individuata sarà il Carle sarà un sacrificio di terreno che è un terreno che è già in qualche modo inglobato in un'area urbana o periurbana e così sarà il tema del ricercare tutte le tecnologie possibili per il risparmio energetico per l'efficientamento credo che sia un tema condivisibile e un tema laico nel senso che questo risultato va perseguito sia che la collocazione sia in un'area piuttosto che in un'altra quindi facendo la sintesi della mia conclusione e chiudo mi sembra che il tema sia stato molto approfondito mi sembra che in realtà le tematiche comuni sia ad una soluzione che all'altra sono parecchie sono molte più di quelle che appaiono la soluzione che verrà individuata dal Consiglio Comunale sarà una soluzione voglio dire è un'indicazione che tra l'altro è coerente con quella che è stata la pianificazione urbanistica che risale a 15 anni fa fatto questo passaggio credo che ci siano altri passaggi che insomma sono quella dell'assemblea dei sindaci la conferenza dei sindaci dell'ASD e poi in ultimo la decisione della regione che insomma fa sì che la decisione che potrebbe avvenire la prossima settimana sia davvero il calcio all'inizio di una partita che è una partita tutt'altro che è chiuso Bene grazie al sindaco il convegno il confronto finisce qui questa sera finiamo con la diapositiva io voglio solo ricordare prima di di chiudere di finire con questa parte qua che tutta la registrazione del dibattito di questa sera del confronto di questa sera lo trovate sul sito della guida lo si può travedere nei prossimi giorni per un lungo periodo buona serata e concludiamo allora con prego la diapositiva che vogliamo mettere per per dimostrare come si possono usare i semafori si può passare col rosso si può si può fare in modo che i semafori siano sempre verdi e qui noi abbiamo messo i nostri semafori con gli elementi che a nostro giudizio sono a sostegno della soluzione che abbiamo indicato per tutta una serie di motivazioni che prima ho svolto nella relazione introduttiva e che riguardano gli interventi che si sono svolti questa sera dei quali io ringrazio tutti gli intervenuti ringrazio Federico Bornia perché so anche quanto per lui sia non sia stata si è stata sofferta anche questa questa dibattita che si è svolto in questi anni noi abbiamo voluto dare questo questo contributo perché siamo convinti di questo e pensiamo che possa essere anche una possibilità da da sviluppare nella nostra città secondo dell'evoluzione anche degli eventi degli eventi politici amministrativi eccetera e quindi ringrazio tutti ringrazio soprattutto il padrone di casa veramente che è un po' stato quello che in questi anni ha alimentato il dibattito su questa questione ed è stato veramente prezioso in questo senso e la guida continuerà alimentare il dibattito e non crediate che sia finito qua grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti